bentornato da tenore informatico per questo nuovo video e vediamo come clonare il sistema di windows 11 è veramente difficile trovare un programma che sia gratuito per andare a eseguire una coppia identica del sistema ho provato fatto delle ricerche la maggior parte dei software su google sono praticamente tutti a pagamento ad eccezione però di un programma che ho scovato per te e ti permetterà di avere windows 11 clonato su un altro disco ssd m.2 ssd insomma potrai tranquillamente eseguire la coppia del tuo sistema microsoft in un qualsiasi tipo di memoria di archiviazione esterna o interna ma non perdiamo tempo e vediamo il programma di oggi per clonare windows 11 andiamo ed eccoci nuovamente insieme e finalmente posso farti vedere questo interessante programma ma prima di iniziare come già ben sai purtroppo su windows 11 ma anche nelle edizioni precedenti di sistemi microsoft non c'è stata mai la possibilità di eseguire un clone del sistema in pratica microsoft non mette a disposizione la funzione che permette di eseguire un backup identico di tutti i nostri file e del sistema e questo mi fa incavolare di brutto mentre su apple hanno questa fortuna io spero che microsoft con il nuovo windows 12 implementi questa possibilità di eseguire un clone del sistema ma adesso andiamo a conoscere il programmino come sempre vado nel mio google chrome e questo è il sito dove poter scaricare reddisc genius a tante funzionalità di cui quella che oggi andremo a vedere è quella del clone del sistema di windows 11 qui in alto a destra andiamo a scaricare l'ultima versione del programma e chi utilizza chrome come me in alto a destra cliccare alla voce download eseguire il programma come amministratore e finalmente siamo pronti per eseguire l'installazione un peccato che non ha la lingua in italiano soltanto inglese o giapponese ma andiamo avanti con l'installazione cliccate ok accettiamo le condizioni andiamo avanti e aspettiamo l'installazione del programma deselezionate la spunta per aprire il sito web qui in basso e lasciate attiva la spunta per avviare il programma una volta che viene cliccato fine ecco il programma di disk genius installato nel nostro sistema microsoft come si può ben vedere ci sono le memorie installate nel computer che sono già state rilevate dal programma andiamo a vedere quello che ci serve per eseguire una coppia del sistema quello che ti serve sono questi due tipi di dispositivi il primo ci permette di andare a inserire un disco meccanico ssd con 2.5 o 3.5 pollici e l'altro per le memorie ssd m.2 semplicemente andiamo a inserire la memoria qui oppure l'hard disk o ssd nella dock station ora che hai collegato la tua dock station con la memoria esterna al computer finalmente siamo pronti per fare la migrazione del sistema da una memoria all'altra cosa devi fare ora che il programma è aperto devi andare qui in alto alla voce tools poco più in basso qui troviamo la voce che dice migrazione del sistema clicca per andare nella seconda schermata tra un po si aprirà questa finestra e ci viene chiesto il disco di destinazione io vado a selezionare il mio disco libero come qui indicato e confermo la scelta cliccando ok a questo punto si presenta questa schermata di cui nel primo piano vediamo il disco di origine dove è installato l'attuale sistema di windows 11 e in basso il nostro disco di destinazione e vediamo anche una panoramica di quello che avverrà dopo la migrazione del sistema questo è un disco da 500 gigabyte libero viene suddiviso copiando in modo identico il disco di origine perché questa è una memoria da 256 gigabyte verrà così copiata nel disco di destinazione quello che bisogna fare è cliccare qui in basso start cliccate ok per confermare tutti i dati del disco secondario verranno eliminati ci sono delle scelte come eseguire la migrazione cliccate direttamente qui su hot migrazione a questo punto inizierà la migrazione del sistema sul secondo disco di memoria e noi ci vediamo dopo il risultato finalmente la migrazione è conclusa completata chiudete andiamo a chiudere il programma di disk genius e vediamo il risultato qui a destra possiamo vedere il disco locale f di cui ho migrato i dati del disco locale c come potete vedere le cartelle sono identiche abbiamo concluso questo video vi ho mostrato come eseguire la migrazione del sistema di windows 11 su un altro disco ssd spero che il video ti sia piaciuto per qualsiasi cosa commenta qui in basso nella sezione dei commenti del mio canale ti ricordo l'iscrizione a tenore informatico e lascia un bel mi piace a questo video alla prossima da tenore informatico ciao